Eccoci allora, siete rimasti tutti, avete fatto benissimo perché adesso siamo con Alessandro Piccini, il sindaco di Cantiano. Buongiorno Alessandro, buongiorno sindaco. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Allora Alessandro, ti sottoponiamo al rito del librone, personologi. Questo è un libro che mi piace ogni tanto andare a interrogare, così per fare un gioco, che è quello di descrivere un po' le caratteristiche, secondo il libro naturalmente, di chi ci viene a trovare. 19 maggio, giorno di nascita, vero? Esatto. Si va di giorno in giorno, è qui, il librone non è a segni, è proprio a giorni. Il giorno dell'accorata persuasione, dice, i nati il 19 maggio sono pieni di energia, d'accordo, ma devono imparare a tenerla sotto controllo e orientarla nella giusta direzione. Si tratta di un fattore molto importante, anche perché molti di essi hanno potenzialmente grandi doti di leadership. Ci siamo, no? Allora, Grace Jones, i nati lo stesso giorno, Malcolm X, Michele Placido e Pete Townsend, il musicista e cantante degli Who. Gli altri non ho specificato chi sono, perché sono nomi talmente famosi. Nei pregi abbiamo naturale, energico, onesto, insomma, è un profilo ideale per un sindaco, insomma, o no? Speriamo. Direi di sì. Allora, sei al secondo anno del secondo mandato, no? Esatto, esatto. Il secondo mandato ho imparato, perché io, come dico sempre, è come se facessi un corso, sostanzialmente, sto imparando un sacco di cose, e ho imparato che il secondo mandato è quello dove si consolidano le cose che si sono seminate nel primo. Nel primo si semina e si deve seminare bene, soprattutto e anche realizzare, perché si deve essere rieletti. Quando si è rieletti, poi c'è tempo per cominciare a consolidare e a trarre i frutti di tutto quello che era stato seminato. Evidentemente, primo, deve aver seminato bene, se no non sarebbe stato rieletto. E adesso, a questo punto, sei a raccogliere un po' e a coordinare le situazioni. In questo comune, ricordiamo Cantiano, quanti chilometri sono da Pesaro? E sono un'ottantina di chilometri. Un'ottantina di chilometri, uno dei comuni, quando noi parliamo dell'entroterra marchigiana e dell'entroterra pesarese, parliamo proprio di quei comuni lì, che si trovano in montagna, 2.000 abitanti. E un'altra cosa che ho imparato è che non conta solo il numero degli abitanti, ma conta quanto sono sparsi sul territorio, che anche nel caso vostro è molto vasto. Esatto Paolo, soprattutto in termini di gestione, perché il nostro è un comune demograficamente medio-piccolo, con 2.000 abitanti, poco più, però con una superficie molto importante di 84 chilometri quadrati. Quindi, chiaramente, di per sé con grandi qualità dal punto di vista ambientale attrattive, ma di difficile gestione, perché chiaramente la gestione quotidiana è demandata a una struttura amministrativa, quella del comune, che è sempre più in difficoltà. Siamo in una fase di minimo storico. L'attuale pianta organica del comune di Cantiano è di 12 dipendenti. Non dico 100 anni fa, ma qualche decina di anni fa erano quasi 50 dipendenti. Quindi capite che la gestione quotidiana non è così semplice. Però, insomma, siamo un popolo, una popolazione tenace, che non demorde, quindi che ha anche imparato a far di più con meno. Quindi l'attuale livello di servizi credo che sia più che dignitoso e continuiamo a fare la nostra parte, insomma. Allora, prima di entrare ad andare a vedere alcune cose che ci eravamo appuntati, voglio, innanzitutto, risottolineare ancora una volta. Ricordiamoci che quando un comune ha un territorio così vasto è in qualche modo l'amministrazione di quel comune che custodisce per tutti noi quel territorio. Cioè, se il territorio è ben tenuto, è merito di un'amministrazione che ovviamente deve fare il massimo per assicurare il benessere ai suoi cittadini, ma anche per gestire questi territori che spesso sono appunto molto ampi. Dicevo, prima di entrare nei dettagli, il bilancio e tutto il resto, partiamo dall'ultima cosa che mi hai detto, che mi sembra che ci stia con quest'idea di questi territori che rischiano, o meglio rischiavano, di spopolarsi e che invece adesso con la pandemia cominciano ad essere di nuovo osservati in maniera interessante. Voi addirittura avete voluto dare una sferzata grossa con questa iniziativa Casa a un Euro per l'iniziativa ripopolamento dei borghi. Sì, Paolo, allora, questa iniziativa nasce chiaramente come una provocazione, no? E dà la consapevolezza che non basta più la gestione ordinaria di comuni come il nostro. Quindi bisogna che in qualche modo diamo risposte a problemi vecchi, come quello ad esempio dello spopolamento, suggerendo o inventandosi soluzioni nuove. Quindi questa iniziativa nasce in questo senso, come provocazione. E l'idea era quella di mettere assieme da una parte chi aveva un problema, quindi magari il proprietario di un secondo immobile che non risideva più a Cantiano, che l'immobile aveva bisogno di ristrutturazione, quindi di una spesa, e dall'altra parte invece chi voleva in qualche modo trovare un'aspettativa di residenzialità in un piccolo borgo dell'entroterra. Quindi ci siamo fatti portavoci di questa esperienza e insomma il risvolto è stato al di là di ogni umana aspettativa. Sì, perché voi l'avete lanciata a base mondo, per cui è quello il rischio grosso oggi come oggi. Esatto. Non è che avete detto parliamo alla provincia di Pesaro, oppure avete detto chi vuole nel mondo venire a stare a Cantiano, gli diamo la casa un euro, che è successo? Quindi i numeri chiaramente sono molto grandi. Dal fine 2019, che è partita l'iniziativa, ad oggi sono arrivate in comune un qualcosa come 5.000 manifestazioni di interesse, più del doppio della popolazione di Cantiano. E chiaramente lì per lì anche la cittadinanza aveva qualche scetticismo sull'iniziativa, come se volessimo svendere il patrimonio pubblico. Ma l'idea non era questa. Però poi la percezione è cambiata, è cambiata quando? Quando da un giorno all'altro ci siamo trovati sul paese magari una coppia di argentini, poi due olandesi, poi due californiani, che venivano per vedere queste case. E magari prendevano il caffè al bar, socializzavano, scambiavano qualche parola, compravano qualche prodotto tipico. Anche perché scusami, ma la regia sta facendo vedere delle foto che gli hai mandato, e con quelle foto lì, insomma, uno parte da dovunque per venire a Cantiano. L'obiettivo era quello. Partirei io a fine trasmissione per venire su con te, insomma, voglio dire. E quindi Paolo siamo arrivati tra l'altro alla concretizzazione di alcune procedure di compravendita. L'ultima è venuta qualche giorno fa, che causa Covid purtroppo l'abbiamo dovuta fare tramite procura, quindi a distanza, e la giudicataria è stata una ragazza californiana, Rosanda Wood, di 25 anni, che verrà a risiedere a Cantiano. Quindi è questo, tra l'altro, la preanimalità che noi come Comune poi aggiungiamo in un vero e proprio bando di gara, perché è un'assegnazione pubblica a tutti gli effetti. Però è chiaro che io voglio ribadirlo, anche se è banale dirlo, cioè noi non vendiamo case a un euro, perché è irrisorio che uno abbia l'aspettativa di acquistare una casa a un euro. Noi vendiamo un'idea di residenzialità. Certo. È questo che sta attirando, cioè l'idea di poter cambiare vita e farlo con un altro stile di vita, un altro modello di vita all'interno di un piccolo borgo ad alta qualità di vita, in un piccolo paese dell'entroterra. È questo che sta, su cui vediamo essere fortemente attrattivi. E credo che da queste azioni così provocatorie possano nascere invece delle riflessioni vere anche sui modelli di gestione e delle buone pratiche dell'entroterra. Io penso che poi non sia, a parte le foto, che ovviamente uno diceva io lì ci vado ad abitare domani, però poi dopo chi lo deve fare veramente è uno spostamento, si documenta, approfondisce. E sicuramente quando si trova di fronte appunto a un comune così ben amministrato, un comune con un bilancio virtuoso, con una serie di iniziative, con una serie di caratteristiche, sicuramente scatta la molla della conferma di una cosa che potrebbe essere un'intuizione. Io tutte le volte che vedo un annuncio che in un'isola cercano qualcuno mi verrebbe voglia di partire, poi dopo comincio a pensare aspetta dunque l'isola dov'è eccetera, e mi rendo conto che. Invece in questo caso probabilmente dovrete continuare a fare una selezione tra quei 5.000 perché mi sa che insomma... Sì, dopo chiaramente come tutte le procedure pubbliche hanno i loro passaggi che siano quelle massima trasparenza e formalità, quindi noi abbiamo introdotto come parte pubblica perché chiaramente noi non entriamo della contravendita, cioè non è che siamo un'agenzia immobiliare, però noi siamo a tutela degli interessi pubblici, quindi la graduatoria di assegnazione di questi immobili segue alcuni parametri che per noi sono importanti, magari noi premiamo di più la residenzialità rispetto a una seconda casa, premiamo di più chi utilizza le maestranze locali per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione piuttosto che fuori, anche come stimolo all'indotto economico ed edilizio. Bene, allora, andiamo al dunque perché se no ci giochiamo gran parte del tempo su questa cosa che è francamente entusiasmante ed bellissima. Chiusura del bilancio, bilancio virtuoso, una bella soddisfazione, questo sicuramente depone a favore sia dell'operato ma anche della vita quotidiana di quelli che sono i residenti, perché poi io ricordo sempre che abbiamo sempre questa tendenza a proporre gli spazi come attrazione turistica, però non è che i sindaci sono i capi di un villaggio vacanze, sono comunque gli amministratori, nel vero senso della parola, di un bel gruppo di residenti. Allora, si sostengono e si supportano, perché non basta solo abitarci a Cantiano, bisogna anche magari viverci e lavorarci, si supportano delle iniziative. Avete fatto questa bella operazione con Biper, che poi non è che vogliamo fare pubblicità ma è l'unica banca che ha un'agenzia, una presenza a Cantiano, avete fatto questa bellissima operazione di sostegno a quello che era poi il famoso prestito dei 25 mila, che poi in realtà erano anche di più, proprio mettendo in gioco dei soldi. Esatto Paolo, proprio perché soprattutto in un piccolo paese bisogna fare squadra, in un momento difficile come quello che abbiamo attraversato e quindi credo che anche il pubblico debba fare la sua parte. Io, ecco, sono il primo sindaco nella storia del Comune di Cantiano a non essere un dipendente pubblico, ma non che sia un problema essere un dipendente pubblico, però stando anche dall'altra parte della medaglia, chiaramente percepisco quando e quale possa essere il supporto del pubblico in un momento di ripresa come questo. E non basta fare l'ordinario, perché fare l'ordinario lo si fa in periodi normali, noi siamo dopo un'emergenza sanitaria e dentro un'emergenza economica, quindi noi dobbiamo fare di più come supporto al nostro mondo produttivo. E questa è un'idea che proprio nasce da questa riflessione, da questa consapevolezza. E tramite, come dicevi, l'unico istituto di credito presente sul territorio, allora UbiBanca, oggi Biper, abbiamo sottoscritto un accordo di partenariato in cui il Comune è entrato a garanzia, assieme appunto a quel decreto Cura Italia dell'allora Governo Conte, di prestiti alle nostre attività di impresa cantianesi. Ma non solo in maniera simbolica, ma proprio mettendoci del suo, mettendoci una quota a parte a copertura del totale costo-interesse di questi finanziamenti per poter far sì che l'attività di impresa prendessero questi finanziamenti, circa 25.000 euro ad attività di impresa, senza pagare per due anni né la quota capitale né la quota interessi, pagata direttamente dal Comune anticipando come bonifico su conti correnti dell'attività di impresa tutto il saldo degli interessi. Quindi per due anni uno ha avuto questo finanziamento senza pagare nulla, confinando poi che dopo due anni l'attività e la ripresa vada avanti e questa operazione ha toccato quasi tutte le attività di impresa cantianesi, 35 attività di impresa, con un'immissione sull'indotto economico del Paese di quasi 800.000 euro. E quando parlo di azioni concrete, è questa la concretezza delle azioni. Al di là della vicinanza morale, poi ecco, bisogna che... Ricordiamo che questi prestiti erano garantiti dallo Stato, però lo Stato era una garanzia, diceva, io garantisco che se qualcosa dovesse andare male, poi... ed era una garanzia nei confronti della banca. Voi invece intervenite e dite, bene, allora lo Stato garantisce, c'è un preammortamento comunque di due anni, in quei due anni non devi pagare neanche la quota di interesse perché te lo paga il Comune. Credo che sia un'operazione tra l'altro unica, no? Io credo che non abbia precedenti, tra l'altro all'epoca la direzione di Ubi ci chiamò da Bergamo perché erano rimasti meravigliati e non capivano perché un Comune facesse questo. Certo, e invece è un'azione simbolica e anche concreta. Credo di sì. E questo è il meglio. Ho visto ieri che eravate al centro ipico Labbadia a lanciare una delle tre iniziative per le quali il Cantiano è famosa. Le altre due sono sospese anche quest'anno, no? La Turba e la Fiera dell'Eccellenza Agroalimentare sono sospese già dall'anno scorso e anche quest'anno non si riusciranno a fare. Invece Fiera Cavalli, sperando, visto che si terrà a ottobre, l'avete lanciata con la famosa filosofia del come se. Come se si potesse fare. Ovviamente, noi lavoriamo come se si potesse fare. Ecco, confidiamo che la situazione dell'emergenza in corso che sta migliorando e il fatto che questo evento si svolga completamente all'aperto crei le condizioni per poterla rifare. Anche perché Fiera Cavalli, Cantiano Fiera Cavalli è il principale evento dal punto di vista dell'attrattività e della ricaduta economica durante tutta la programmazione annuale kantianese. In mezza giornata richiama quasi 10.000 presenze ecco, alle pendici del Monte Catria in uno spazio all'aperto di più di un ettaro di esposizione e quindi noi tramite il cavallo che è questa nostra particolarità che è l'unica razza tra l'altro autoctona della regione Marche il cavallo del Catria noi promuoviamo tutto il nostro territorio le sue eccellenze agroalimentari tutte le bellezze naturalistiche siamo appunto alle pendici del Monte Catria e quindi ecco, una fiera di livello che porta anche un indotto economico importante e che regge una parte importante dell'economia kantianese. Anche se non si fa la fiera dell'eccellenza agroalimentare quella del primo maggio però il pane di Chiaserna, le amarene di Cantiano e appunto il cavallo del Catria restano, ci sono insomma? Restano, restano, ci sono tutto l'anno e quindi in qualsiasi momento è il momento giusto per assaggiare. Mi ricordo che quando facevo avanti e indietro Pesaro-Roma e poi parliamo di quello che poi chiudiamo spesso uscivo un attimo dalla superstrada e mi fermava Cantiano per le amarene perché le amarene di Cantiano sono imprescindibili devo dire la verità. Il pane è lo stesso ma il pane poi bisogna consumarlo e mangiarlo le amarene invece rimangono lì insomma da sport da sport, esatto. Parliamo di questa strada allora e con questo poi tra l'altro ci avviamo alla conclusione questa strada che collega a tutta la nostra zona in particolare Fano ma anche Pesaro con Roma se vogliamo perché poi la strada che ci porta a Roma qualunque scelta poi noi facciamo dopo Pontericcioli perché se poi Pontericcioli giriamo per la Contessa arriviamo a Roma lo stesso se giriamo invece per la vecchia Flaminia ci arriviamo a Roma ma fino lì fino a Pontericcioli ci dobbiamo arrivare per cui a quel punto vuol dire che voi sposate con entusiasmo questa iniziativa di Anas che ha deciso finalmente di metterci le mani. Sì ecco Paolo come intuisci per noi la Flaminia ma non per noi credo per un intero territorio è una strada storica perché tra l'altro ecco è una consolare quindi non è che nasce ieri ma ha una sua origine storica e dal 1908 è una strada statale quindi poi che è tornata io dico giustamente statale dopo questo passaggio di gestione alla provincia. La Flaminia in questo momento è oggetto di una serie di lavori che nell'immediato daranno qualche disagio ma che però risolvono dei problemi storici quindi 10 milioni di euro circa è quanto l'Anas sta investendo sul tratto cantianese in questi giorni i cantieri sono partiti i disagi saranno inevitabili ma i disagi vanno visti nella logica della risoluzione definitiva di un problema e quindi tra l'altro questo dispendio di Anas ci fa riflettere anche sull'utilità e sulla strategia di utilizzo e di sviluppo di questa arteria perché sul dibattito provinciale e io lo dico senza problemi e non lo dico in contrapposizione con altri ragionamenti perché stiamo parlando di tante reti viarie la fanno grossetto ed è giusto che si sblocchi si sta parlando della pedemontana ma che è una nuova strada aggiuntiva io credo che la Flaminia vada valutata perlomeno alla pari stante l'importanza del traffico attuale su questa arteria centinaia di migliaia di veicoli all'anno stanno già transitando su questo asse viario e tra l'altro oggi da Pesero per andare a Roma io credo che si passi per la Flaminia quindi affiancare all'ANAS anche una seria valutazione sulla risoluzione e la maggiore fruibilità e scorribilità di questa arteria che trova un impedimento storico nella Contessa, in questa famosa galleria che è in cima purtroppo a una valle che crea qualche difficoltà c'era anche un'ipotesi con Gubbio stiamo discutendo di un abbassamento dell'asse viario della Contessa per rendere più agevole e soprattutto ai mezzi pesanti l'occasione anche del recovery fund di queste opportunità di investimento del momento probabilmente potrebbero farci riflettere anche sull'opportunità di continuare a investire su questa storica arteria io immagino che come amministrazione voi siete ovviamente impegnatissimi a comunicare ai cittadini questa necessità di affrontare il disagio perché in proiezione si rivelerà come qualcosa di molto positivo la difficoltà potrebbe essere invece far arrivare questa comunicazione a chi lì transita magari una volta sola e quella volta trova l'intralcio e lì dovrebbe pensarci un po' a Anas come si può fare comunicativamente? ai tanti turisti del weekend agli amici turisti del weekend soprattutto nel transito da e verso il mare quindi agli amici umbri che per consuetudine utilizzano la Flaminia come rete di accesso al mare chiaramente qualche piccolo disagio lo si avrà ma magari è quel disagio anche all'ora giusta per fermarsi a Cantiano fare uno spuntino approfittare della cenia far scorrere il traffico e poi rientrare con tranquillità quindi è un disagio momentaneo ma credo che poi dia invece prospettiva migliore per quello che sarà la fruibilità futura della Flaminia programmate allora i vostri viaggi i vostri trasferimenti sapendo che potete fermarvi un attimo a Cantiano nel momento in cui c'è questo intralcio sulla viabilità che è temporaneo comunque perché poi i tempi sono anche abbastanza brevi per queste riorganizzazioni della viabilità bene Alessandro io ti ringrazio siamo stati velocissimi siamo riusciti a dire tutto un piacere sì sì abbiamo detto credo ecco parecchie cose tant'altro c'è da dire ma io torno volentieri benissimo allora prendiamo nota anche perché c'è tutta una programmazione da fare per quando riprenderemo dopo la pausa estiva ma anche adesso abbiamo ancora qualche puntata prima della fine del mese per cui non è detta che se c'è qualche novità importante comunicata c'è la che non è detta che non si trovi uno spazio anche prima dell'inizio dell'estate grazie ancora allora come sempre ogni volta che io parlo con uno dei sindaci del nostro territorio mi verrebbe voglia il giorno dopo di prendere ad andare su anche per magari fare un bel giretto in moto anche Cantiano ci starà nei miei itinerari perlomeno del desiderio poi dopo nella realizzabilità vedremo siete i benvenuti grazie tu per primo grazie allora adesso andiamo in pausa ed è la pausa musicale prima dell'ultimo ospite abbiamo gli esiti sul sondaggio che abbiamo fatto tra gli sport individuali e di squadra il 68% sceglie gli sport di squadra il 32% gli individuali probabilmente perché gli individuali sono da soli quelli di squadra sono di più vabbè ringraziamo per i saluti che ci arrivano da Giulia Francesco Nadia Filippo e Cristian e Antonino ricordiamo anche la app il modo di avere la vostra televisione Rossini TV in tasca scaricatela c'è l'app per tutti gli strumentini che avete nelle vostre tasche sia del mondo Apple che del mondo Android e adesso prima di andare con il prossimo ospite andiamo con un brano musicale Beggartown Beggartown dei Cheap Wine e poi ci vediamo subito dopo con Roberto Occhialini restate con noi grazie Alessandro grazie a voi grazie a voi